Rendendo a prestito il noto cantante italiano, dico certe notti che succede qualcosa, sono sicuramente molto felice perché abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo giocato una difesa estremamente attenta, abbiamo fatto pochi errori e penso che abbiamo tenuto in mano la partita per 40 minuti contro un avversario molto importante, una squadra profonda, una squadra candidata al Final Four, credo che a volte è giusto e importante capire le situazioni, io penso che stasera la natura di Cantufa un passo indietro si siede sulla panchina e da merito ai propri giocatori di aver fatto una partita eccellente, di aver cercato di accettare la sfida di questo livello, avevo chiesto a ogni mio giocatore di essere più importante anche per un solo minuto, avevo chiesto di alzare il livello in tutte le cose e loro mi hanno ascoltato, hanno fatto una partita per ferocia, penso una delle migliori di tutte quelle che io ho fatte in queste quattro anni a Cantu e quindi la serata dei miei giocatori che si meritano tutti gli applausi di questo spegnito pubblico e di questa bellissima serata. Io come voi mi metto seduto e guardo questa partita e me la do.